Sondaggi grande fratello chi preferite fra Elena, Amanda, Luca, Shaila, Stefano? Una concorrente ha preso il largo. E dopo l'ultima eliminazione di Clayton Norcross attore americano di Butu Fil veniamo alla prossima puntata di martedì, prossimo del grande fratello. Almeno questo è il palinsesto al momento in cui vi stiamo scrivendo, poi non sappiamo cosa deciderà Mediaset dopo la probabilissima chiusura della latalpa che non ha riscosso particolari successi. In ogni modo questa settimana sono in votazione interlocutoria 5 concorrenti. Ossia il più o votato sarà immune dalla successiva nomination eliminatoria, quello meno votato andrà di diritto in nomination. Vediamo quelli che sono in nomination quindi per martedì, prossimo. Sono. Stefano Teodisi con quattro voti, la modella Elena Prestes con tre voti, Amanda Leciso con un voto, Luca Calvani con un voto, Shaila Gatta con un voto. In questo momento Elena Prestes è in testa alla classifica con circa il 40% delle preferenze, Stefano Tediosi e Amanda Leciso ultimi al 5% con una manciata di voti di preferenza. Grazie a tutti.